A metri a disposizione, palla e mezzo, prova a andare, l'ha messa dentro con una meravigliosa rovesciata. Che gol ha fatto Pierre, sai che ci ho provato anch'io qualche volta in allenamento e mi sono alzato tutto rotto. Non ha avuto esitazioni, qui l'attaccante si è allacciato sul pallone e l'ha piazzata alle spalle del portiere con una rovesciata.